Ritengo fino ad oggi che sia un errore politico quello che il centro-sinistra sta facendo, in particolare il leader del PD, guardando a Monti che almeno in teoria dovrebbe perseguire una linea politica antitetica rispetto a quello che il patrimonio ideale e culturale del PD dice, invece che guardare verso rivoluzione civile che su molti terreni parla la stessa lingua degli elettori e dei militanti del PD. Lo stesso vale per Grillo, è persona che stimo sul piano personale perché è anche un amico, ma naturalmente in politica l'amicizia conta poco, contano le idee e i comportamenti. Grillo ha fatto anche oggi delle dichiarazioni di diffidenza nei confronti del nostro movimento che posso capire, ma visto la sua impostazione di antipartiti che lui ha tenuto, ma non la comprenderei nel momento in cui conoscerà la composizione delle nostre liste che saranno la testimonianza concreta di come io non faccio, non ho fatto la foglia di fico di nessuno e non la farò mai. E che invece la nostra lista è proprio quella quadratura del cerchio che è la sintesi fra l'impegno civile sulle battaglie sui territori per i diritti civili e sociali e la buona politica che si è espressa in questi anni e che ancora vuole essere rappresentata nel Parlamento.